nuovo appuntamento con tra le righe incontro con l'autore questa settimana siamo collegati via skype con un teologo e cercatore di dio lui è paolo curtaz che ha pubblicato da qualche settimana due nuovi libri gemelli pecore e pastori editi dalla san paolo salve paolo e benvenuto su padre più tv grazie salve voi allora due libri gemelli uno si intitola pecore che tutti i parroci dovrebbero regalare i loro parrocchiani e l'altro pastore un libro che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai loro parroci due libri gemelli perché non ha ha deciso di parlare ai parroci e ai parrocchiani con due libri diversi ma si è stata un po un'idea dell'editore perché quando ci siamo messi a riflettere un po l'editore che mi propone i libri sostanzialmente io di solito mi occupo di sacra scrittura e avevo il desiderio di parlare un po al cuore delle persone rispetto l'attuale situazione ecclesiale questo prima che accadesse tutto quello che poi è accaduto però ho sentito il bisogno e la necessità di cambiare linguaggio perché un conto è come dire quello che vivono i preti in questo momento veramente molto delicato e un conto è quello che vivono i laici allora mi sono reso conto che era impossibile mantenere il doppio registro e così devo dire con molto coraggio l'editore ha accettato di fare due libri che è un bel investimento per un editore e mi pare che la scommessa sia riuscita quindi è proprio una questione di linguaggio e di cose da dire ai preti e di cose da dire ai laici e poi non è detto che i parroci possano leggere il libro rivolto ai parrocchiani e viceversa e poi un'altra caratteristica di questi due libri che hanno delle copertine ecco a sé però messi insieme si può come possiamo anche vedere dall'immagine quasi un'unica copertina quindi un prato da pascolo il pastore e le pecore e per quanto riguarda il libro pastori lei ha dichiarato che un libro nato dal cuore sofferto è anche un libro onesto perché ma io ormai mi ritroverei superato la soglia dei 50 libri editati quindi di cose ne ho dette fin troppe e nel mio pellegrinaggio in giro per l'italia anche un po per l'europa sono spesso invitato da comunità prima del lockdown facevo fino a 70 80 conferenze all'anno mi sono reso conto che i preti o perlomeno quelli che mi invitavano erano forse la categoria che in questo momento sta patendo di più il profondo cambiamento che stiamo assistendo nella chiesa italiana e nella società italiana scherzando dico sempre il primo problema della chiesa italiana sono i vescovi in subordine i preti perché c'è una fatica di un mondo che ancora non è finito e un altro che ancora non sta nascendo allora mi sembrava bello e onesto parlare i preti ci ho detto mi rendo conto di entrare in un ambito estremamente delicato perciò è un libro onesto perché ho parlato proprio come una chiacchierata alla fine di una serata intorno a un tavolo così come è accaduto tantissime volte appunto dei preti che mi invitano raccolto e accolto la loro sofferenza la loro fatica i loro problemi i loro entusiasmi e questo libro è un tentativo ribadisco molto onesto anche un po asciutto e diretto cioè poco teologico molto pratico pastorale di richiamare i preti un pochettino a quello che è il grande sogno che hanno accolto quando hanno accettato di iniziare quel percorso libro nel libro pecore invece è partito da una frase del vangelo quale sì ma l'idea era quella perché un libro pastorale quindi non di teologia non di riflessione astratta deve partire necessariamente dalla parola della scrittura e a me sembra paradossalmente che in questo momento ci siano troppe idee e troppe immagini come dire in un consiglio pastorale in una lettera pastorale di un vescovo c'è un po tutto il contrario di tutto allora con molta semplicità mi sono chiesto che cosa aveva in mente gesù quando ha immaginato questa comunità di discepoli e discepoli che lo seguissero perciò ho preso il primo vangelo scritto che è marco e ho preso il primo riassunto descrittivo secondo gli esegetti di quella che è la realtà della comunità primitiva ed è un'unica frase che poi ho commentato ampiamente che salvi sul monte chiamo a sé quelli che gli volle perché stessero con lui per mandarli a predicare e guarire gli infermi i nomi dei dodici li costitui dodici i nomi dei dodici sono e da lì ho costruito un intero libro perché mi sembrava che da questi piccoli annotazioni si andasse all'essenziale perché una delle fatiche grosse che io vede nelle comunità e che si confondono i piani cioè si mette che ne so l'orario delle messe a che età fare la prima comunione allo stesso livello di che cos'è veramente il cristianesimo e cos'è questo evento straordinario dell'incontro perciò mi è sembrato di invitare le persone a riprendere in mano il vangelo e dire sì ok ma gesù cosa aveva in mente lei crede che stiamo vivendo uno dei momenti più fecondi e creativi della storia del cristianesimo è proprio così sì ne sono ostinatamente convinto perché siamo chiamati a fare una sorta di teologia della storia vedere li rompere di dio nelle cose che facciamo sicuramente sta cambiando moltissimo noi di fatto l'impostazione pastorale che abbiamo nelle nostre comunità è la stessa da cinque secoli che ne diciamo il concilio vaticano secondo ha voluto guardare con uno sguardo profetico al futuro però come dire c'è un grosso debito alla storia a quella che chiamiamo una religiosità popolare tradizionale socioculturale per cui in questo momento abbiamo una sorta di grande struttura che in certi posti va ancora abbastanza bene penso per esempio ad alcune zone del centro italia del sud italia in altre come della mia parte è praticamente scomparsa come dice in maniera a volte un po' provocatoria papa francesco è come se avessimo un esercito fatto solo di generale questo vuol dire un cambiamento profondo che non vuol dire buttare a mare la parrocchia non vuol dire buttare a mare la pastorale ma in questa pastorale che è in profondo declino pensiamo per esempio al lockdown che per due mesi ci ha fatti tutti i cattolici non praticanti ci siamo resi conto che quello che noi proponiamo non è più sufficiente per formare discepoli non per fare una specie di religiosità comune e condivisa perciò questo dio che fa nuove tutte le cose a volte anche attraverso eventi come quello che sta succedendo quasi ci obbliga a tirar fuori l'essenziale perché davanti alla difficoltà come quella che stiamo vivendo vediamo veramente in che cosa credere e che cosa sarà la chiesa del futuro e perché questo non sembra un po' provocatorio cito un bellissimo articolo intervista di un grande teologo che nel 69 un teologo tedesco che nel 69 immaginava il futuro di una chiesa fatta di piccole comunità molto motivate senza più il riconoscimento il potere che avevano in quegli anni e questo teologo era il cardinal Ratzinger cioè non era il professor Ratzinger quindi Papa Benedetto. Lei ha parlato di discepoli quella di oggi forse non è una chiesa composta da discepoli come fare per diventarlo se è possibile poi diventare oggi dei discepoli? Vedi Paola ho ripreso questa categoria che incredibilmente un po' trascurata nel senso che il discepolato vuol dire seguire un maestro è il nome discepoli e discepole è il nome che noi troviamo principalmente discepoli del signore discepoli del signore il termine con cui venivano indicati coloro che seguivano questo strano rabbino questo rabbuni Yeshua di Nazareth come dire è come se noi fossimo andati tanto tanto avanti ma dimenticandoci un po' l'essenziale quindi l'idea del discepolato è proprio questa di dire ma guarda che il cristianesimo non consiste nel sapere delle cose nel praticare delle devozioni ma nel seguire qualcuno e questo qualcuno è Gesù di Nazareth non un uomo del passato ma il cristianesimo continua a professarlo vivo e operante in mezzo a noi oggi perciò l'idea l'immagine il termine stesso discepolato è questo guarda che se vuoi ti puoi mettere alla scuola di qualcuno che ti insegna cosa è la vita che cosa è la storia che cosa è il mondo come diventarlo è un po' il tentativo fatto anche dal libro riprendendo in mano la parola in realtà io non dico nulla di così nuovo è che una cosa che in questo momento è sul tavolo insieme a mille altre cose allora tirarlo fuori dal tavolo spolverarlo e farlo vedere dice guardate che è questo perché molto molti come dire hanno dimenticato che il cristianesimo ha a che fare con Dio è un po' paradossale ma è così mi raccontava un parco del nord est diceva io ho otto anni che vivo in queste parrocchie come dire ho ricevuto un sacco di richieste di messe per i defunti di benedizioni delle case aiuti economici eccetera eccetera mai nessuno mi ha chiesto insegnami a incontrare Dio teoricamente perché lo sappiamo tutti ma forse perché come in una coppia un po' stanca ci si è dimenticati l'essenziale mi sembra poi è solo una parola ma che la categoria del discepolato indichi di guarda che se anche sei nato in un paese tra virgolette cristiano anche se sai cosa succede a Pasqua e Natale il cristianesimo è un'altra cosa in conclusione magari riassunta in una battuta dopo questa pandemia saremo davvero migliori no saremo esattamente come siamo entrati anzi io sono assolutamente certo come ho scritto anche in altre parti ho anche collaborato a un testo fatto da Monsignor Dario Rivero non è una parentesi poi sono molto presente sui social in questo momento chi mi segue mi conosce no assolutamente questa è una retorica che ci siamo detti per cacciare la paura una cosa che l'antipaticissimo signor Covid sta facendo e di cui secondo me va ringraziato è tirar fuori tutta la verità che c'è dentro di noi tutte le paure ma anche tutte le potenzialità e vediamo anche che un atteggiamento che già c'era nella nostra società di vittimismo di stagnazione di come dire questa ideologia del progresso della globalizzazione che sono stati azzerati nell'arco di otto mesi abbiano fatto vedere che non soltanto il re è nudo ma anche la regina è tutta la corte è una grande opportunità io questo continuo a dirlo paradossalmente può diventare un momento di grazia come spesso è accaduto lungo la storia se noi prendiamo non come una cosa da far passare il prima possibile ma come l'occasione per dire bene ora ci sono state tolte delle cose cosa è veramente essenziale a queste condizioni potrà diventare una opportunità per fare nuove tutte le cose che è il tipico stile di Dio bene io la ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata una chiacchierata appunto più che un'intervista è stato come scambiarsi dei punti di vista la ringrazio anche per avermi fatto ma sicuramente la stessa sensazione la proveranno coloro i quali vedranno questa intervista riflettere su alcuni punti molto molto importanti intanto ricordo i titoli dei due libri facilissimi, semplici editi dalla San Paolo, Pecore e Pastori firmati da Paolo Kurtaz che potete trovare anche su social e diverse piattaforme vogliamo ricordarne magari un paio Paolo sì io sono pervasivo ho un mio sito che è paolokurtaz.it ho un mio canale YouTube e poi sono presente su tutti i social Facebook, Twitter, Instagram, Telegram tutti i giorni con la meditazione del Vangelo del giorno in questo momento di pandemia faccio anche una trasmissione live che si chiama FTC la fede al tempo del coronavirus tutte le sere alle 20 che è un tentativo per aiutare le persone a guardare in alto a sollevare lo sguardo come dice San Luca quindi ahimè sono presente un po' ovunque se qualcuno volesse mi trova su internet basta digitare il mio nome e cognome bene grazie di cuore per essere stato con noi grazie magari alla prossima pubblicazione e grazie agli amici di Padre Pio TV che ci hanno seguito anche questa settimana Contra le righe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti